Ipotizziamo uno scenario di questo tipo, abbiamo una base dati con tutte queste righe bianche da andare a eliminare. Come potremo fare? Manualmente clic sulle varie righe, clic destro, elimina, poi potremo aiutarci anche col tasto F4, ma risulta un'operazione lunga se la base dati è molto estesa. Quindi ci sono più modi per ottenere questo risultato. Quello che secondo me è più efficiente è fare clic su un punto a caso della nostra tabella, premere il tasto F5, quando compare questo box via, premiamo un bottone speciale e poi selezioniamo Celle vuote. A questo punto premiamo il tasto OK. Lui in automatico andrà a selezionare tutte le nostre celle vuote presenti nella tabella. Ora cosa facciamo? Un bel tasto destro, elimina, e qui decidiamo se spostare in alto le nostre righe oppure eliminare completamente la nostra riga di Excel. Quindi facciamo un bel sposto in alto, facciamo un bel OK, ecco che abbiamo pulito tutto il nostro file con pochissimi clic.